Sono cinque settimane che vivo con questo pensiero, sempre solo con esso, sempre agghiacciato dalla presenza, sempre curvo sotto il suo peso. Un tempo, poiché mi sembra siano passati anni e non settimane, io ero un uomo come tutti gli altri. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto aveva le sue fantasie. Il mio spirito si divertiva a snodarmele davanti l'una dopo l'altra senza alcun ordine o regola, ricamando di arabeschi infiniti il tessuto di questa misera vita. Era sempre festa nella mia immaginazione, potevo sempre pensare a quello che volevo. Ero libero. Ma invece sono carcerato. Il mio corpo è in catena in una cella di otto piedi quadrati. L'anima è prigioniera di un'idea, non ho più che un pensiero, che una convinzione, che una certezza, condannato a morte. Gli uomini sono tutti dei condannati a morte con delle dilazioni indefinite. Cosa c'è dunque di cambiato nella mia posizione? Che quello che qui scrivo possa un giorno essere utile ad altri, o possa fermare il giudice sul punto di giudicare o salvare dall'agonia alla quale io sono condannato? Dal momento in cui è stata pronunciata la mia condanna, quanta gente è morta che si preparava ad una lunga vita? Quanti mi hanno preceduto? Le giornate piene di tristezza, il pane nero della prigione, la razione di brodaglia assorbita nella tinossa dei galeotti. Qualsiasi cosa io faccia, questo pensiero infernale è sempre lì, solo e geloso, dinanzi a me, come uno spettro di piombo che mi toglie ogni distrazione, con gli occhi sempre fissi nei miei, sempre pronto a scuotermi con le sue mani di ghiaccio non appena voglia girare la testa o abbassare le palpebre. Mi assedia quando sono sveglio, si insinua in tutte le maniere, là dove cerca di fuggire il mio spirito. In quel momento, che dalla stretta finestra della cella, vidi quel riflesso dorato in cui degli occhi abituati alle tenebre di una prigione sanno così bene riconoscere il sole. improvvisamente, mi accorsi di nuovo di essere chiuso tra quattro mura di pietra, nude e fredde. tutto intorno a me è monotono e senza colore. Loro non vedono tutto questo che la caduta a piombo di un coltello a mezzaluna e pensano che di certo il condannato non ha niente davanti a sé. Loro godono, trionfanti, di poter uccidere senza quasi far male, come se proprio di questo si trattasse. Cosa è mai? Infatti, il dolore fisico paragonato a quello morale, all'orrore e la pietà delle leggi fatte in un simile modo. Ma verrà il giorno in cui, e forse queste memorie, ultimi confidenti di un miserabile, vi avranno contribuito. Se evadessi come correrei per i campi, disgraziato sognatore, rompi dunque prima di tutto il muro spesso tra i piedi che ti imprigiona, un mezzo per fuggire. Io oddio, anche dovessi lasciare dei brandelli di carne attaccati alle travi. Bisogna che io evada. Bisogna, immediatamente. La morte rende perversi. Eppure non ero un perverso. Morire tra poche ore e pensare che un anno fa, nello stesso giorno, ero libero, innocente. Facevo le mie passeggiate d'autunno, vagavo sotto gli alberi con i piedi affondati tra le foglie. il sole, la primavera, i prati pieni di fiori, gli uccelli che si svegliano al mattino, le nuvole, gli alberi, la natura, la libertà, la vita. Tutto questo non è più per me. Sono io che mi devo salvare, sono io. Lascio dunque una madre, una moglie, una figlia, una bimbetta dolce, rosea e delicata, con due grandi occhi neri e dei lunghi capelli castani. Quando la vidi l'ultima volta aveva otto anni e un mese. La mia povera, piccola bimba. Da quest'ora ride, gioca e canta e non pensa a niente. È lei, è lei che mi fa male, mia piccola bambina. Ancora poche ore sarò morto. Tuo padre, che ti amava tanto, che baciava il tuo piccolo collo bianco e profumato, che continuamente passava le mani sui capelli come su di una seta, che accarezzava il tuo dolce viso. Nella sera univa le tue piccole mani per pregare Dio. Chi ti farà tutto questo ora? Tutti i bambini della tua età avranno un papà, tranne te. Grandio! Ancora due ore e 45 minuti e sarò guarito. E già so che quando i miei occhi saranno chiusi vedrò una grande luce, degli abissi di luce, in cui il mio spirito rotolerà senza fine. Mi sembra che il cielo sarà luminoso per sé stesso, che le stelle diventeranno delle macchie oscure e che al posto di essere come per gli occhi dei vivi e delle pagliuzze d'oro su un velluto nero, sembrano dei punti neri su un velluto d'oro. La grazia, la grazia per pietà. Ancora qualche minuto di vita. Grazie.